e ma porcaccia scusi signora non avevo visto le ho fatto male senti che dammi qualcosa da bere si signora prego ancora un po ancora 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 va bene così di un po ti diverti discretamente signora e tu non bevi mai quando lavoro signora sta a sentire ma non sei stanco un pochino signora allora sediti qua che parliamo non posso sì ma sì che puoi sediti qua vicino a me non posso ma sì magari signora sediti qua te lo dico io e lo dice lei ma non posso permette prego tienilo no signora grazie ma io te lo regalo grazie signora come se avessi accettato grazie se sono bevuti 30 bottiglie di whisky e 40 di champagne dice che hanno fatto la festa per beneficenza e sa facevano per divertirsi che succedeva la camomilla giovanni la camomilla pronti eccola la camomilla dove camere degli ospiti terzo piano in fondo se non risponde entro lo stesso benissimo che è embriaco vorrei sapere chi è l'embriaco stasera punto punto